A me è sempre emozionato il vinile e da ragazza mettere il braccio sul vinile e vederlo girava, mamma mia, mi ipnotizzava proprio come quel disco Mamma mia, vomito, mi faccia cantare un po' come mi piacevano, che nostalgia degli anni 80 A proposito di nostalgia, mi viene una frenabile voglia di vedere lui